Ciao a tutti, sono Acetix e benvenuti in questo nuovo episodio e sarò da solo per un bel po'. Laggerò perché sto caricando un video, mi dispiace ma devo assolutamente registrare. Oggi è la puntata dove faremo, finalmente, beh, finalmente abbiamo detto l'altra volta, il dry chestplate. Io sono un pochettino preparato e direi di iniziare per fare l'ultimate dell'attack. Se serve il superconductor che si fa, ecco questi qua, quindi saremo Iridium Playlist, Advanced Alloy, così qui. Allora, eh sì, laggo però fortunatamente non è una cosa esagerata, sono dei diamanti. Si può trasmurare un po' di oro in diamanti e ne serviranno tanti altri e poi capirete il perché. Allora, stiamo a mettere un po' di diamanti qui, ne mettiamo 5, l'iridio, ok, ne prendiamo un po', un po'. Ok, il superconductor, ne serve un bel po', un bel po'. Poi servono altri di questi, così, eccole qui. Comunque siamo altri, Iridium Playlist, quindi li andiamo a fare altri pochi. Ci mettiamo in questo, ok, grazie, in table, ne facciamo, ok, altri, ma si dai fonti ne escono. E così, e così, no, così. Quindi vedete altri pochi diamanti. Abbiamo finito l'iridio, ma si dai, bene. Sì, c'è un po' di lag, lo so, lo so, lo so. Intanto io qui lascere così, nell'eventualità. Ce ne serve un po' di più, ok. No, ne serve un altro. Ne serve giusto, giusto un altro, perfetto. Ok, e ne facciamo tantissimi. Ne abbiamo 27. 27, queste qui sono veri e propri fili. Cazzo. Ok. Poi, oltre a questi, serviranno dei glass fiber. E dell'oro. Andiamo a prendere l'oro. Mi spiace il scritto, ma abbiamo, non gli e lui tranquilli. Ma lui con altri membri del server ha deciso di andarsene, e io non li posso dire niente. Ok, facciamo un bel po' di superconductor, ne abbiamo 12. Speriamo bastino. Facciamo l'ultimate l'apac. Quindi devo prendere il mio advanced dell'apac. Ecco qui. Lo mettiamo qui. Dai, ok. Ehm... Ehm... Un altro iridium plate. Merda. Un altro iridium plate. Adesso ne facciamo altri due. Uno. E tu. Quanti video. Ok. Quindi ne facciamo un altro. Superconductor. E il lapatron crystal. Ne dovrei avere altri, perché li avevo fatti prima con creep. Non sono qui, ma saranno dentro questa cesta di cristallo. Verdo appunto. Ok. Fuori. Abbiamo il nostro albimit l'apac. Fuori uno dei pezzi che ci servivano. Il superconductor ne dobbiamo far avanzare quattro. Uno, due, tre, quattro. Ora andiamo a fare... Ehm... Sempre andremo anche il nostro albimit l'apac. E abbiamo... Precisamente tre dei nove pezzi che ci servono. Anzi no, dai. Facciamo di HP transformer. Ok, serve un machine block. E dei fili d'oro. Machine block. Ne prendiamo otto. Scusatemi, me lo riprenderò ancora per il lag. Ma mi raccomando. Follici in su e scriveteli. Perché sono il più pro della serie. Si stacca il mouse. Oh yeah. Mi serve dell'altro redstone. Ok. Ne prendiamo direttamente tutto lo stack. Gli elettronica circuito, fortunatamente li ho preparati. Mi serve le refini di Viron. Adesso mi serve dell'altra gomma che non ho. Sì. Sì. Ne prendiamo un po'. Non c'è. Non basta un po' là. Non c'è, non c'è. Ok. Ma che cavolo? Non ho pagato. No. No, no, studio mouse. Ok. Ehm... Seguiva il machine block. Ok. 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 La vozia ruffie. Machine block. Due fili d'oro. Abbiamo le MV transformer. Adesso dobbiamo fare l'HV transformer. Mi serve un altro domande. Una miss redstone intorno. Poi farò anche il Vaira. Poi gli altri serve. Mi servono un elettronico circuito e i fili di rifini che diranno quattro. Mi servono due. Non me ne prega che quelli stanno così. Ma non ho gomma. Non l'ha scucciata tutta a protomine. Due. Quattro. Così. 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 Dove è l'elettronico circuito qui? Eccolo. HV transformer. Abbiamo un altro pezzo. Abbiamo tutti c'altro solo i Gravitation Engine che sono i più posti da fare. Qui ci sta lì. Ok. Dobbiamo fare. Iniziamo a fare con lì. Un altro HV transformer. Dai ci speriamo. Bassano. Ok. Bassano precisi. Precisi. Meno male. Ok. 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 Ok, un altro energirista, nel prossimo episodio, o in questo ora vedrò, dipende dal tempo, dovrò usare ben 81 diamanti, eh già, avete capito bene, perché gli 81 diamanti? Perché dovrò fare il link modifier, ovvero per fare il teletrasporto in tramondo con i libri, ovvero io mi trovo a casa di protomine con la testa di cazzo, non lo vuole aprire, io uso i miei libri e me ne ritorno a casa, lololololol, ok, so che da solo sono un po' noioso ma questo è il mio fatto di essere professionale nei video. Mi spiace, di HB Transformer, cazzo io sono coglione perché ne servono due, vabbè intanto facciamo il primo, l'altro faccio 3 camera spente, facciamo 4 tesla coil, facciamo degli altri MB Transformer, facciamo 3-4 MB Transformer e finisce la storia, dai 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 dai, nella speranza che sia uscito, no, nella speranza che sia uscito, che sia uscito un po' di bumma, no, sono fottuto, ahio, i golem tagliano, li sentiamo, poi, 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 un altro che di Transformer, facciamo un po' di Machine Block, ok, ne facciamo un po', ok, 6, 1, ok, vi facciamo diventare tutti i MB, devo controllare, e no, ne servono ben 8, quindi, saranno altri due, mi saranno altri due fili e un altro po' di Refranita d'Airo, 4-14, e altri due di questi fili, ahio, vai, è una cosa lunga fare questo, no, vai, che palle, mi vago, facciamo un altro po' di Machine Block, ne servono altri due, ne servono altri due, così, così, MB Transformer, ne servono ben, un po', quanti ne riusciamo a fare, ah, per un, no, peccato, 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 Refranita d'Airo, che palle sto, Refranita d'Airo, basta, ho capito, no, non qui, dai, 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 non la garda, non il servono, però, così, prendiamo un po' di Refranita d'Airo, l'altro lo manderemo direttamente lì dentro, ne servono ben, 14, quindi, 14, il resto lo mandiamo diritto dentro, lo smisamo, a un attimo ragazzi si può fatto altri il tonic circuit ok è arrivato alex c'è però non è dentro penso ci sarà un bel delirio per alex ti piace la ferrovia un attimo ok allora 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 per l'acqua per rifare dai non te lo qui per farlo altri due altri due altri due mettiamoci tutta redstone ce ne servono abbiamo le tesla coil adesso dobbiamo fare il cooling core altri video un plate vado a far fare un pettino di video e corri tastiera di merda ci sono altri video un plate la 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 ok cooling core ci siamo iniziamo a fare queste clean dance copper come si fa? ok devo mettere nel compressore un bel po' di copper mettiamo un po' di materiali quanti materiali intanto vediamo un po' quanti ne servono ne servono ottimo ne servono un botto mi ne servono un botto quindi devo dire di farne un attimo ok intanto prendiamo questi eeeh quindi a casa di brandy due sacche ok ok allora 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 cooling core iniziamo a fare questo mi serve un botto di team nel vero senso della parola lol stock ho chiamato la mia spada che bella ok facciamo evitiamo storie iniziamo a fare queste qui serve della team e facciamo le tadan spostiamo un pochettino di questa roba per metterci la team mettiamo altri di questi ne prendiamo altri e sono finiti quindi io direi di prendere questi metterli qui e fare così ok e ne facciamo altri ok guarda qui facciamoli fare loro io devo fare questo lavoretto ok e lo eeeh rifacciamo così ok ne prendiamo altri ne abbiamo 1 2 3 4 e 5 ok fermo ok no ok ne facciamo altre buon coglione perfetto eeeh ne facciamo altre e le buttiamo quindi 1 2 3 4 e 5 ecco e bravo felice? beh direi che questi qui dovrebbero bastare almeno spero cooling corre 60k col anzelle quindi ne servono ne servono eeeh 4 no così qui non bastano no non bastano per niente quindi prendere dell'altra team e ne farei delle altre eeeh comprati ne servono ok ne servono questi qui ne servono 4 e 8 e un altro macello di team ok mettiamo questa qua qui 1 2 3 e 1 4 quanto ne serve per 1 4 oddio ne servono 16 di queste cose le facciamo solo i puli inizialmente facciamo questo qua oddio ragazzi faccio tutto io che chiamo ragazzi riesco a fare il primo cooling corre neanche il primo gravitation il primo cooling corre ah madonna chi me l'ha fatto fare di fare una cosa del genere e quindi neanche mi bastano queste cose io ah madonna primo cooling corre ah dopo secondo cooling corre e ci prendiamo a fare il primo dei due gravitation avete capito bene? il primo dei due mio oddio non ce la faccio più che manca poi due super condotto ecco qui fuori uno altra mezz'ora un'ora di attesa di gomma a dopo dopo non so quanto tempo sto per fare il secondo gravitation engine dove sono le tesla coil eccola qui gravitation engine gli mettiamo la quantum fit sopra e mi sa mi manca una cosa gravi eccola qui si mi manca un'ultima cosa che è una cosa da poco in confronto alle altre cose cos'è che mi creava l'humus eeeh la sabbia eeeh poi 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 dove è? ho cazzo perso uno dei pezzi ah ultimate laphack andiamo a fare quel macchinario logger e arboretum questo stronzolo mi vuole coprire tutti gli impianti porca miseria non giro più gli impianti che devo fare non giro più gli impianti che non c'è questo io credo di aver già dell'app eeeh cavolo mi serve altra gomma mmmm no logger a quello e uno si mette dentro e vai ok eeeh devo cuocere 5 pezzi di ferro mmmm no 3 dove è il tubo di legno ok mmm dovrò aver messo adesso i fili questi qua mmmm non basta mi serve un'altra gomma quindi prendiamo altri due di questi i diamanti li ho presso la red sono lì eeeh ah mi sto dimenticando intanto salutiamo zio fish che si è giunto in chiamata ciao iscrivetevi al mio canale eh mh oh gomma 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 perfetto ok 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 sono 3 pezzi di gomma mh sono 3 e tagliamo quest'albero perchè mi li ha fatti saltare per un creeper cavolo lag ok salto ok mettiamo a cuocere questa gomma qui eeeh dopo questo hv transformer cavolo mi serve un altro electronic circuit infortunatamente io anzi ne devo rifare un altro quindi intanto facciamo questo qui spostiamo tutta questa roba giusto un attimo mi serve dell'altro definito iron mi serve un altro pezzo di definito iron ah li ho qui ah vero cavolo con la miseria del machine block vabbè fa niente electronic circuit facciamo anche l'energy crystal ok energy crystal abbiamo tutto pronto manca solo un pezzo di un altro pezzo di ferro ok facciamo il machine block ok non è libero ok machine block nell'autocraft in table mettiamo i due fili questi qua ho perso l'energy crystal dov'è? qui electronic circuit qui insieme però qui qui dovrebbe esserci dell'altra gomma qui dentro si altri due che non credo bastano e meno male ne abbiamo altre qui quindi ne servono altri due fili precisi precisi 4 e abbiamo un altro high voltage transformer high voltage transformer ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta gravi chest plate dopo ore ore e ore mi sono fatto la gravi chest plate gravitation engine on e voliamo ce l'ho fatta ce l'ho fatta complimenti ok adesso posso dire sono il primo nel server ad essersi fatto questa cagata log e il bello è che funziona anche come la pack che quindi posso andare anche in miniera figo figo ok buttiamo tutta questa roba ok 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 perfetto c'è della roba lì in questa cesta che non mi serve più niente ah un attimo regalo jetpack lo prendo io grazie vieni tanto ho la gravitation engine che mi serve ormai più vieni a casa mia sì arrivo capo fammi posizionare l'ultimo cubo di terra dopo di che potrà finalmente dire di aver ricoperto il buco del quarry forse forse arrivo ehm che cosa oh monazit qui che dovrei lavorare tanto andrea già c'è la jetpack gritto.log cosa ci fa qui dovrei buttare un po' di sta roba però non so dove spostare questo intanto vuole il tuo aiuto vieni qui vai lì vieni lì vai qui devo un attimo ho buttato via la mia porta venga aspetta dovrei buttare un pochettino di sta roba ok ok ho sistemato la mia cesta devo trovare qualcosa per buttarlo cavolo io ho delle altre watercane eccomi qua mi apri per piacere sì sì ok dov'è il jetpack se vuoi te lo ricarico anche oh servizio completa yeah I'm waiting you arrivo cavolo stavo per cadere nel... Dè io che scherzone a cosa va? Minecraft jungle eh uh si sta caricando io metterei anche a macerare la monazit o quelli dell'MF sei tu stronzo ci hai messo il liquid glass ok qui andranno nella fornace beh io direi nel prossimo episodio possiamo tranquillamente iniziare la MFFS cosa molto figlia ma ascolta com'è che è qua? in che modalità è uver mod? non saprei non mi ricordo neanche d'accordo vabbè ciao ciao amici di 10TX ciao ciao da 10TX è tutto Dante da? zio Fiscia ciao a tutti